Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. L'intervista di Dalila Di Lazzaro a Verissimo è stata straordinariamente intensa. Silvia Toffanina ha posto domande all'attrice e scrittrice riguardo alle sue esperienze di violenza, e Dalila ha enfatizzato l'importanza di denunciare sempre tali episodi. Rivolgendo un appello particolare agli uomini, da lei indicati come responsabili di questa triste realtà, la violenza è una cosa orrenda. Parlo agli uomini, che sono i colpevoli di tutto questo. Con una franchezza commovente, Dalila Di Lazzaro ha condiviso il trauma di essere stata vittima di abusi fin da giovane. A soli sei anni, racconta di essere stata minacciata da due ragazzi che la svegliavano di notte, minacciandola di farsi attaccare dal loro cane se avesse parlato. Un'esperienza traumatica che ha portato con sé per tutta la vita. Rivelando di aver sofferto e affrontato attacchi di panico nella sua giovinezza, ha elogiato l'aiuto di uno psichiatra per bambini che l'ha sostenuta quando è arrivata a Roma all'età di vent'anni. Il racconto di Dalila non si ferma a episodi isolati. Ha condiviso un'ulteriore esperienza dolorosa in cui, essendo una modella, è stata avvicinata da un uomo disturbato che l'ha sequestrata per quattro giorni, picchiandola e ferendola. Ha denunciato l'addressore, ma ha anche rivelato di essere stata vittima di ulteriori violenze, compreso un tentativo di aggressione da parte del capo della polizia durante una denuncia. Dalila Di Lazzaro ha concluso l'intervista con un appello accurato a tutte le donne. Denunciate sempre questi episodi. Non bisogna avere paura, non bisogna subire. Un grido di forza e sostegno, sottolineando la necessità di contrastare e denunciare la violenza, incoraggiando le donne a parlare e a non vivere nel silenzio.